Ciao a tutti raga e benvenuti sul mio canale e in live. Oggi sono insieme a Devis. Ciao Devis. Ciao a tutti. E oggi faremo qualche viaggio. Allora, dobbiamo scendere un attimo perché il mio camion è un po' rotto e ho bisogno di dormire e scendiamo a Olmavic mi sembra si chiami. Quindi iniziamo ad andare lì e da lì vediamo se troviamo qualche viaggio. Vai tu per prima? Come vuoi, devi dimmi tu. No, vai pure tu prima. Tu ti porti il carico? Ok. Bloccato. No, volevi. Ditemi se si sente bene. Non sei vuoto, quindi. Quindi vai tranquillo. Sì, sì. Ma do il volante come trema. Ah, è vero che tu sei senza lima, ti devi andare piano perché se freni troppo vedi che fino a poi si gira sulla neve. Eh, vado come riesco. Eh, vado come riesco. Sono molto stanca. Grazie, non lo sapevo. Oggi... Bene, molto bene. Ah, l'ho preso in pieno. 111 km, sono un bel po'. Sì. Nei. Sì. 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 Che posso fare? Io anche senza niente fa fatica a salire. Sta arrivando uno giù. Ok. Ma dove? Un cielo lontano. Un cielo lontano. ah no due va bene finita va bene ma dove li vedi tu? dal tub ok io sono aperto più grande il tub ah ok aspetta che sono uscita fuori strada ah ho visto dai vediamo se riesco a rimettermi in strada essendo vuoto dovrei farcelo molto bene sai che c'è io vado direttamente a quello per riparare con f7 vabbè ci troviamo là ah mi sa che conviene perché uno avevo sonno due avevo il camion rotto mi sa che tu ti trasportati in te e ci dovessi anche il benzina salve dentro nel tuo camion sono hai il retro sì ma dove ci ha portato scusa eh non capisco ah l'officina è l'officina dietro adesso non io sarei l'officina ok riparo un attimo io devo pagare 320 mila magari di pagare il camion e i rimorchi buonissimo è a posto mi modifico un attimo al camion vai vai perché sto colore non mi piace più visto che c'è anche il letto qua si potrebbe dormire qua ah molto bene adesso infatti sto visto che siamo qui io ho capito va mi sa che è dietro mi sa questo è bello buon lasciamolo così andiamo avanti ah si infatti è dietro ma dietro fuori dal garage si qui davanti si tirai tutto a destra cioè tutto a sinistra e poi ancora a sinistra ho tutto a posto mi sono addormentata non era indietro da quella pulva ho toccato qualcosina mi sa ma scusa dov'è? era di fianco proprio di fianco di fianco al capannone dell'officina ah io sono uscita fuori e lì pensa a fare manovra oh mi sono riaddormentato ah è brutto quando succede ciò posso fare ho sbattuto un po' e dove sto andando io in retro c'è la collisione? si ma no ma non potevano metterlo da un'altra parte oh ciao a tutti raga ecco beca di una retro chiudemelo grazie mi sa che ci tocca fare pure benzina entrambi eh perché ho visto che anche tu sei abbastanza eh mi sa di sì grazie mille per avermi seguito e benvenuto allora perché non so ne io quanto ne ho però ho dormito il camion è a posto quindi andiamo a fare cercare qualche viaggio e per strada mettiamo benzina sì si potrebbe prendere qui davanti no di davanti non c'è mi piaceva la zitta no lavoro autonomo quindi dobbiamo andare in mezzo a questi tre come va rock off tutto bene dobbiamo attraversare dall'islanda per andarcene via eh sì vediamo se qua in una fabbrica qua c'è qualcosa rock ok perfetto tutto bene lei no non darmi del lei per favore io tutto bene abbiamo appena iniziato qua cerchiamo un viaggetto da fare no no dammi del tuo please non mi sento così vecchia in quella dita vuoi entrare quella in fondo o questa qua in fondo provo prima tu entri in quella e vedi se vedi qualcosa di interessante ma io qua non vedo i punti per terra dove sono eeeh la dita lì se tu devi fare l'altro devi proprio entrare è un casino lì ci dovrebbe essere oh mamma mia guardati intorno perché ci potrebbero essere anche i cancelli e poi attraverso lì c'è quello è un casino qua io me la sto facendo tutta in retro perché ho sbagliato strada e sono proprio nel rimorchio e scusa qua ok non tocco forse qua al posto ecco il cancello che si è aperto ma io non trovo nulla ah io sì ho trovato uno ah ho trovato anche io due ne ho trovati ok eeeh tra il video cosa c'è allora batteria mi va in eh sì tra tutti i nomi che mi potevo beccare mi ha fatto quello giusto lavoro autonomo è in norvegia direi di no qua ce n'è una che scende un po' in germania dove vai aspetta ah c'è la camera non vedo forse dove vado io proviamo un'altra un petronchi aspetta aspetta perché se no se hai tipo rai qualcosa tipo andiamo in giù tipo questa roba vest man nai reglar qual vuoi andiamo quanti sono 667 lì c'è qualcosa che va verso l'europa più est più bassa eh dipende perché da me c'è uno che va in germania allora prendiamo quella aspetta che arrivo lì e però non so se te lo dà anche a te il problema è quello provo ad arrivare tutta dietro qua c'è un'altra aspetta che qua c'è ancora una provo a vedere porca c'è tua nulla insomma vogliamo andare via dall'islanda sì verso l'europa cioè vabbè verso francia tutte quelle parti là ciao davide tranquilla mi puoi ritrapassare sono senza collisioni nasci qua come va è qua dove sono tipo io giù c'è la gabbina mia dovresti vedere ah c'è solo sto qua vabbè dai andiamo verso il basso lo posso prendere io e tu lo copio ok dai prendilo e io lo copio come abbiamo fatto l'altra volta però ricordami come ci faceva ciao a tutti raga germania allora andiamo in germania o in germania sempre in germania andiamo in germania però questo qua ci fa fare 3000 km conviene prendo l'altra che ci facciamo più traghetto quindi 3000 sono tantini vabbè ma tutti su strada sì sono quasi 3000 e 2 su strada e 1000 di traghetto ma dai c'è un piccolo problema aiuto vediamo se riesco a farlo hai preso? sì basta che fai il tasto destro sul mio nome e fai il copia carico job tipo se te lo dà già sì sì ho fatto ma dov'è? sì ma perché giro male? ah te l'ha messo sopra il mio dove devo caricare io davanti a te ah adesso l'ho vista vabbè il ganto privato sono messo un po' storta ma forse va ok aggiorno solo il titolo della live va vai intanto io carico mi metto più avanti così riesci a caricare allora vediamo perfetto aspetta solo un attimo andiamo in Germania lontaniccio allora Islanda Germania Magna ok dovrei esserci ok ci sono e partiamo ah c'è un benzinaio qua allora fermiamoci raga chi si vuole unire abbiamo appena iniziato il viaggio andiamo in Germania ma qua c'è la collisione la collisione non ce l'ho scritta sopra e non la vedo allora aspetta che io devo fare una cosa ah cosa ho preso cosa ho danno io devo uscire devo prima di spegnere il motore e ci sono faccio una cosa che non si dovrebbe fare cosa? eh tipo salire su questo marciapiede e fare il giro di qua perché dovresti fare tutto il giro eh perché dovresti fare tutto il giro sto facendo il piede prenderla tutta larga perché c'è quel cartello che non lo butti giù no vai vai ce la fai non devi dire che ti sei bloccata lo stesso ve l'ho fatta ok andiamo vai pure come state raga? tutto bene? qua è un po' ghiacciato dobbiamo farci tutto di islanda c'è che questo sarà l'unico viaggio di oggi hai acceso il trackbook giusto? yes yes adesso vado nel lago ok no se lo faccio alla fine quanti chilometri erano puliti? eh mille qualcosa ah ok invece li faremo di notte guidare con prudenza neve più avanti ogni tanto il camion vada sulle strade dove vuole lui in questa neve qualche frenata piccola tunnel? no cos'è grottina piccola comunque siamo arrivati a 229 molto bene se riusciamo ad arrivare a 250 entro fine mese sarebbe perfetto sì ok so ok 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 se no qua vado a finire contro la neve dice che ci metto 69 ore arrivano due persone su a breve qui che ho visto ci metto puoi andare piano è giocato ancora a farming Davide ciao grid 3 benvenuto in live sto arrivando ok guarda un po' sulla mappa un posto per fermarsi che prende un viaggio Luca verso di noi allora aspetta un attimo dopo questo tornante dopo due o tre curve c'è tipo un punto dove ci possiamo fermare volendo ok allora ci fermiamo poi la aspettiamo che lui si crei il viaggio mi sto mi sto non so come vai sento che mi sta arrivando un raffettore come vuoi tu si si no va bene va bene tanto fino che non entri andiamo avanti ok si qualcosina si ho visto adesso il messaggio stavo pensando non so se il prossimo o quello dopo cioè questa settimana dopo il cotone iniziere a piantare erba dappertutto e fare insilato su tutti i campi che avevano dappertutto e fare insilato sui pieti dappertutto e mica però non so se non si casse un po' sui pieti ma ma anche quando si vede fresco si non si sa un po' sui pieti avanti piantare io l'accessione guantare Siamo in nove Ciao a tutti raga E benvenuti Se volete viaggiare con noi Scrivete un messaggino Porca città Stavo per ribaltare Mi sentite? Sì, ciao 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 Sì, noi ci fermiamo dove sa Davis Mi sentite una città E mi do sferisco E la dici Davis per favore Dimmi per il fuoco in faccia anche no Ciao Oh, ciao Solgitop Mi sono distrattata Ma passate da A Curiri Come va? Tutto bene? Non lo so, sai Sì, ma tra 20 minuti 20 minuti Prima di cercare i mesi invernali No? Sì, mi assisto Ah, ok Ok, vabbè Vediamo un attimo Poi Eh, facciamo tra un palbo Noi Solgitop Il problema è che altri garaggi non ce ne sono Vabbè, guarda che si è riscoperto quella città Ti puoi trasportare Perché c'è l'officina in storia Aspetta Vado a vedere se l'è scoperta Siamo qua Verso all Mavic E andiamo ad Hamburgo Penso, non mi ricordo Dov'è? Sì, vicino ad Hamburgo Io ho fatto un convoglio con un'azienda americana Erano un minimo 40 persone Erano un botto Sì, un bel viaggio Oggi ci facciamo un bel viaggio Se volete unirvi Puoi unirti Vado a venire ci ho convolto No, non insomma Sì Ho fatto un errore Mi sono fermato in salita E non vado su Di più di 40 Io sono rimasta un attimo indietro Che ho risposto in chat Eh, ho visto, ho visto Chi stavi Io di ferma E ho iniziato a calentare Oh, bella la tratta Magari Ah, il grandissimo sorci Sì Magari Ma sto lavorando Cosa stai facendo? Ok Ho risposto solo il telefono Qua fa un po' fatica Vai tranquillo Ci aiutiamo Ma vicenda Quando ci sei ancora in live Stacco Te lo faccio Lo faccio quasi a tutti Vado a che difficoltà In salita Ogni tanto ti guardo Non ho tanto tempo Di la verità Ma Qualche minuto Lo guardo Perché sto lavorando Veramente tanto Nell'ultima settimana Soprattutto Arrivo a casa Verso le 8 e mezzo A volte sono distrutta Quindi Neanche voglia di Accendere il computer Soprattutto le 8 e mezzo Che difficoltà Sto facendo una fatica assurda Eh, pure io non è che sto andando su molto È a 40-50 Ragazze E seguite Sorgi Anche lui Porta farming Cosa portavi ancora? Non mi ricordo Perché più avanti C'è poi La nebbia bella Bella tosta Come neve Poi la nebbia Ah, bene E adesso arriva anche il buio No, qua no Non arriva il buio No Cioè Viene buio Ma Diciamo che non è buio In Islanda Difficio che vedi Proprio Buio Buio Sentino attimo ragazzi Mi consigliate il doppio rimorchio O il simbolo Eh Allora Vuoi che dire Vi prendo il doppio rimorchio O il simbolo Sai che se vieni in Islanda Con il doppio rimorchio Rischi il ban Di tre mesi Di poco cosa riprenderai Cioè Cosa riprenderai In Islanda Con il doppio rimorchio Non mi ero bannata Cioè Ce l'hai Pallward Eh Lo so Però Puoi inderti Come la mia amica Quando giochiamo Non potresti più Viaggiare con il doppio rimorchio E neanche Quando ti rimorchi Quelli Porta i treni Per alcuni punti di mappa Madò Sto facendo una fattica Cosa Se ti beccano Ti kickano O ti danno il ban Dei tre mesi Non va avanti Te lo dico Te lo dico perché A me mi hanno kickato Quando avevo il doppio rimorchio E sto venendo qua Perché faccio qua Te lo stai facendo Sì sì Ah premi V Per mettere Le già messo Deferenziale Sì sì ce l'ho già Ah ok No non ce l'ho visto Guarda uno dello stream Rallena Che premi Sì che ce l'ha Ce l'ha sotto Il tastino verde Quello No guardi Così I fari No sì ce l'ha Che c'è Io non lo vedo Aspetta Non capisco Quando è attivato No No è attivo No è attivo Fidati Perché lo conosco Il Mercedes Sai dove c'è la velocità In mezzo E dove c'è la marcia Sotto vedi quel pallino verde Quello è differenziale attivo Quando sparisce Quello vuol dire Che è differenziale È tolto Sul Mercedes Ah Sì Però per toglierlo Devi fermarti proprio Sul Mercedes Ah ok Ho capito Infatti dopo un po' Che lo vuoi Anche attivo Mentre vai Rischi di romperlo Cioè fai danni Ma Piccoli danni Guarda abbiamo Ho avuto un abbiocco In un secondo Ma adesso mi Niente l'ho vista male L'ho presa un po' veloce Poi ci vediamo Dopo Il gas riscolato Eh sì Trasferisci Da Pura Intanto Arriviamo lì 99 Limite Sfiorato L'unico punto Dove ti puoi trasferire Ok Il mio punto è quello Ma quanto sei più avanti Sono a 3.112 km 20 km in più Sì ma sto andando 20 all'ora 30 all'ora Per aspettarti Io mi sto trasferendo A curire Perché adesso Noi abbiamo ancora Due cittadano a beccarti Quindi Se voglio Vi aspetto VAMOS A LA PLAIA Oh 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 No VAMOS A LA PLAIA Oh oh Tant'oggi mi sa che faceva Il suo viaggio Yeah Eh sì Perché ci mettiamo Tanto a uscire Da Island Il problema è quello Quanti chilometri Mancano fino alla Dogana lì Cioè Alla barca lì Allora Ehm Ehm Eh ragazzi Silenzione di sfarico Boh Saranno tipo 500-600 km Da qua Insomma Noi arrivare Allo traghetto Dove dobbiamo andare A scaricare? Sì Ehm A Burgo Germania Bordeaux 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 Azzin L'escarico Eh Spera Bordeaux Ehm 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 Bordeaux Ehm Ehm No lo so Francia Ehm Germania Bordeaux Ehm In Francia Scrive Bordeaux Come si scrive? No ma non so se C'è a medici un altro posto Aspetta Ehm Ehm A me dice Hamburgo. Ah, sì. Hamburgo alla RTLT. Hamburgo. Ti sei sbagliato tu, eh, Luca? Perché io l'ho detto proprio preciso. Io ho capito, Hamburgo è detto, NSO, l'atomo di Pampat, Quantena Report, Detach, Qual è NSO, l'Eletro... Allora, vediamo il rimorchio. Raga, tutto bene in chat. Ma si sa sicuramente... C'è la fai, io sai queste salite. Il camion? Sì, penso di sì. C'è un po' di gente, eh, in Islanda. Poi non so, ma ne sto portando neanche tanto, mi so. Ah, 17 tonnellate di batterie. Con che pulsante hai la mappa grande sullo schermo mentre guidi? M. M dovrebbe essere di base. No, non è M. Allora, dovresti impostarlo. Io ce l'ho impostato su N. Ah, sì, funziona. E poi con tab puoi zoomare. A me da 870 km. Beh, un bel pezzettino ancora. Ho chiesto che arrivano due persone. Mi, ma queste pietre no, eh. Ok, strada. Finalmente. Ok, che c'è ancora in chat nessuno. Secondo me due ore e mezza ci mettiamo. Ah, Davide. Molto bene. Cosa stai facendo di bello? Stai giocando farming nel frattempo? Allì va un altro. Stai andando fuori strada. Ah, 2006. Sì, ma c'è anche traghetto, quindi. 2006 ti dà? Sì. Noi ne abbiamo ancora 3.000. Sì, perché lui sta purai, quindi sta molto più avanti. Sto usando un... ...oletto in... ...un gioco. Ah, ok, ho capito. Ti hai preso la voglia anche te di Eurotrack. Sì, ma c'è anche la voglia anche te di Eurotrack. Benzini siamo a posto, giusto? Sì, sì, io sono a posto. Dai, che poi ti prendi il computer nuovo. E ti unisci anche tu con noi. Ti misci tu, ho la giusta. Ti senti di dissi? Allora, vedi quando fai live, non si vede niente, si blocca. Lo so, perché lo streamavo in 2K. Streamo in 2K, adesso ho bastato. Per quello. Ah, sì, così tu risci hanno la connessione per vedere in 2K. Bene, devo abbastarlo. Eh, infatti l'ho abbastato. No. No, oggi è sotto punto zero. Io l'ho messo in HD. Eh, io l'ho in 7.20. Ma stai trasmettendo anche tu la live? No, no. Io le live le faccio di notte, di sera, tardi. Quindi... Io sto a Tappariri vicino al garage. Noi stiamo arrivando, penso. Eh, boh. No, c'è ancora... Dobbiamo arrivare a... Come voglia. Abbiamo entrato ancora in queste due città che abbiamo davanti. Però non c'è più strade brutte, diciamo. Caviglia con le lette. Dove sto in qua. Dove è uno staggepposo. Il posto viene qua verso... Blondhouse. E' uno da me e' via. Visto. io ho messo 89 ragazzi se non l'avete ancora fatto viva seguitemi già ho bruciato una stanotte di 4000 km l'ho bruciato perchè? eh per sbaglio l'ho tornato 102 così io l'ho bruciato forse era da 2000 ieri io da un po' che non gli ho bruciato l'ho bruciato e ho chiuso tutto l'ho un lato in carico non l'ho manco consegnato perchè ho visto che ho fatto 102 l'ho bruciato e non c'è che lo consegnavo oh il ponte è mio ah no ok e dico un altro l'ho manco con la locomotiva come fa ad andare in strada con la locomotiva si ma se ti beccano su quelle strade nascoste e sulla strada dove siamo andati da tra la svolta io e lei ti bannano per tre mesi io non lo sapevo questa cosa io ho fatto diversi raggi con il doppio di marchio doppio diciamo la locomotiva eh si provo a farlo un altro doppio di marchio e vai nelle strade quelle da scoprire e le altre vedi come ti cliccano tempo zero e poi vedono che se lo rifai ti bannano come per esempio prima che si poteva andare con il doppio marchio adesso lo so eh lo so io sono sempre andato con il triplo di marchio su a chi che ne so poi dopo adesso appena vai lì con il doppio di marchio ti cliccano hanno messo una cosa apposta che ti cliccano subito appena entri e dovrebbero farlo anche qua visto che così a meno visto che non vogliono che entrano con il doppio di marchio perché poi ti becchi le salite con il ghiaccio dove vai cioè non vai su già con uno è difficile sì perché ok abbiamo già partito chi ha gioca io ho traccio i camion modificati al massimo però anche con 750 730 non ci vai su madonna c'è ancora un po' che lo vede anche lei l'ha visto con il scagna io con un 730 non riuscivo andare su con il rimocchio cioè io sto con l'unifeco sq ma c'è la mod del 730 cavalli ecco già questa cosa non la supporto quando vedo che il camion che non ha senso di mettere cavalli in più se un camion di aerotrack di base ne ha quelli il massimo che poi metti è quello ma se sto fanno in cena forse 500 qualcosa uno di quei 500 cavalli c'è vedi è notte adesso ma rimane così è tutto tempo almeno lo passiamo qua e poi si fa luce eh sì in islanda è così e anche in grebiettania mi pare che la notte non si vede quasi tutto arriva uno eh ho visto visto infatti sto rialentando perché arriva da giù a cannone e mi prenderà in pieno no ok se è rimocchio mortacci sua ciò posso fare superiamo questa città e siamo arrivati da luca bene ma ora lo sto avvolando ragazzi qualcuno si vuole unire è l'ora di scriverlo adesso sono in promod Bene, danno 4 Quante ore ci hai giocato quel gioco, Davide? Ah, quasi nulla, vuol dire che non ti ha preso così tanto Mi sembra che è tutta curva in mezzo Ah sì, dai, siamo a metà Sì, sì Siamo ancora a una meccina di chilometri A te quanto c'è scritto? 2006 200 chilometri allora Siamo ancora a una meccina di chilometri Per una settimana forse Perché Rave, si senti, ha detto Che ha superato 3 locomotive Sulla calea di Duisburg E si è trovato un camion davanti Ah, ok, ho capito Ah, ok, ho capito Da qualche parte Un altro camion, cioè anche quello di guardare Ok, ho capito 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 tanta gente qua eh. Sì dai un po' ce n'è e mai ci sono 6 persone. Ok che arriva uno. Vabbè mi so quasi stai andando la strada. Eh sì come l'altra volta quando noi stavamo venendo giù da lì. Quella curva è sempre addosso. Quei contramani quando vieni giù. C'è nel tab io vedo 6 persone. Già. Ma dove sono? Vai nella città. In città giù. Dove c'è il garage. Madonna. Luca. Sì? Vedi dove c'è il benzinaio di Akurai? Quale benzinaio? C'è l'unico benzinaio in quella città? Dove sei tu? O ti sei già andato? Io sto vicino all'ITCC. Eh e vieni esci da lì vai sulla strada principale quella in mezzo. Vicino a quella che noi passiamo lì. Raga per chi vuole in mezzo a noi basta che la scrivo. Mi stiamo già da un'ora in live. Eh sì. Secondo me è ancora un'ora in mezzo e ce la mettiamo tutta. Come dici che per me ci vuole tre ore? Tre ore. Sì ma perché sono... perché non ti calcoli... devi togli il traghetto. Perché lui ti calcola come facessi tutta la strada invece devi togli anche il traghetto. No secondo me è per le cinque stacco. Vai vai Luca. Ti vieni? Sì e inizia ad andare piano. Ti vedo. Almeno sei tu quello davanti. O sei... Io vedo davanti a me. Se vedo il tablo oggi si sa io. Ma... Che sto vedendo davanti a me? Che sale? Ma non sei in primo ozzia mi sa? Perché non sei rimasto in zona da noi. Eh io dal tablo non ti vedo. E a me mi occupa 2600. 2645. Ah ah sì ti vedo sei davanti a me. Devi sì ti vedo. Ah sei lato dopo il bonte. Ecco perché. No. O sei dietro? Da dove sei? 500 metri c'è scritto. Penso sono dietro. Dietro sono sì. Oh cos'è questo lag? Andiamo a sinistra. Qua fa già più buio. Sì. Ma ci stai recuperando Luca? Non vi vedo un tablo io. A noi mancano 2643. Segui la strada. Quale che ti dice il navigatore? 2621 diciamo. Ma allora aspetta sei davanti. Eh eh eh. Ah ecco. Fermati un attimo. Per farmi a bordo strada. Sì due minuti. Sempre se qualcuno non si ribalta dentro di due minuti. Ah ecco qui Luca. Vai vai. Arrivando un attenzione. Ok ok. Vai 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 Luca. Dai manca ancora poco di risposta. Velocità 90-95 massimo. Quale 95? 63-95 vai. Ok. Vai 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 Grazie a tutti. Leggermente fatica. Per me per le 4 e mezza... ...barre le 5 abbiamo finito il viaggio. Secondo me le 5. Vedremo. Scusate, Luca, non sentiremo ancora la neve? Buonissima. No, sto sviluppando. Sto giocando tutta pad. Ah, ecco qua. Sto arrivando con uno. Sto arrivando con uno. Ti sfido allargare, Luca. Purtroppo, purtroppo è un armoni, grazie. Sto arrivando in due. No, in uno. Mi favo bene. Un altro. Ancora uno, allora l'avevo visto bene. Sto andando così piano perché sono davanti e sta allargando e quindi non lo voglio prendere in faccia. Sto? Sto? Sì, sì. Allora, vediamo solo un attimo. Mì, ma quanto è lunga sta Islanda? Non finisce più. Ma quanti chilometri abbiamo ancora fino al porto? 2005 ho scritto qua, non lo so. No, dico fino al porto. Ah, ecco. Al porto ho 300, 400. Ok. Ah, io ho preso un palo. Io pure. Io no. Grazie, sto seguendo te. È normale che... Mi sa che non è buona idea il seguire. Mi sento qua in discesa, penso. Stanno andando da solo. Io infatti lascio la sola volta. Lascio la sola perché tanto va da solo. Io ho fissuto perché ho visto che sono andato a 93, quindi... Sto evitando di fare la gara. Bucciare il viaggio. Anche no, grazie. Ho già bruciato uno oggi. Certo, no. Sto chiedendo, non mi ricordo. O da 1.000 o 2.000 km. E io ho 4.000. E io ho fatto da Milano a venire qua, in Islanda. E se l'ho bruciato appena uscito da Milano. Subito appena uscito. E alla destra. Sì, e il muro è il mio. E ho visto. Dai che siamo quasi usciti dall'Islanda, manca poco. Due, trecento chilometri. Arrivando uno. Lascialo passate. Ma io lo dico. Mi avviso. La vita è solo quando trovi contro mano. E basta. Tanto, nell'altra persona, penso che andiamo contro mano noi. Quindi. Va bene, io non vado contro mano. Non puoi mai sapere. Oh, ciao, power... Ho detto bene? Sì, power... Red, o cos'è? Non ho detto bene, c'era 6. Grazie per avermi seguito. Non è che è un'ami complicati che vi mettete. E benvenuto. Ok, non ho accetto la forma alla stazione di servizio. Ok. Scusa, come sei messo con la benzina, Luca? 525 lire. Dai, sono partaglio dei puffi. Perché c'ho la freccia accesa ancora? Le pego, purtroppo. Tu c'hai lo scambio. Ovvio. Raga, chi si vuole unire, basta che a me lo scriva. Stiamo andando in Germania. Che senti? E ci fermiamo al punto vicino. Ah, il Volvo è il migliore. Facciamo in ProMod. No. Secondo me no. Io so. Ah, dai. Grazie. Guarda, questo è un po' di rai. Grazie mille. Io ho sempre detto, a me dello scone mi piace il vecchio. E grazie KingTheRide per avermi seguito. Grazie mille. E soprattutto grazie per i raid power thread. Oh, grazie Camillo per avermi seguito. E benvenuti a tutti. Grazie veramente a tutti. Ne so, ti seguo anch'io. Aspetta, non so se ti sto seguendo, no? Eh, se riesco. Ok. Ce la faccio, forse. Non ti stavo seguendo. Adesso ti seguo. Ciao King. Benvenuto. Ancora non lo so. No, 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 no. Sto andando piano perché sto leggendo un attimo qua. Sì, sì, no, tranquillo. Ho visto Luca andare in mezzo ai campi. Vado a cogliere la neve. Ah, no, no. Bene, fermati, fermati. Ok, anche io sto andando fuori. Aspetta che leggono i messaggi. Ancora non lo sai come giocare online. Ok, poi... Cioè, tu ce l'hai il gioco completo con te le DLC delle mappe. Figurati, grazie a te, arriverai. Sto cercando di guidare e quindi sarò un po' più distratta nel leggere anche. Forse no, perché se non ce l'hai, in pro modo non puoi giocarci. Però in multiplayer sì, puoi giocarci in simulator 1 o simulator 2. Però ti dico, sono ok, il gioco. Ah, ok. Eh sì, puoi... Basta che vai su... Multiplayer, cerchi online, te lo scarichi. Io ho perso ormai. MP, mi sembra, se chiami. Ti fai il profilo e... Boh. Però noi siamo in pro mod, ma bisogna avere tutte le DLC delle mappe, ecco. Mi stavo per ribaltare di nuovo. È un po' più complicato. Anche... Anche io. Arriva uno. Perché ci sono certe curve, sembrano lisce. E poi prendi una curva, pam, ti ribalti così. Grazie mille, King. No, è un gioco che mi rilassa, quindi sì, perché non giocarci? Ciao. Mi ha appena passato uno. Victoria. Non ho detto che ce l'avevo. Ragazzi, c'è qualcuno che mi vuole aiutare. E... Se entri... Adesso io non posso aiutarti, però... È difficile adesso da spiegare. Entra sul mio Discord e poi ti mando il link di... Cosa scaricare, ecco. Per il multiplayer. Allora, se no, scrivi Multiplayer Eurotrack Simulator su Google. E lì dovresti trovare come fare. O ci c'è qualche tutorial su YouTube. Appena avrò un po' di tempo ti do una mano. O se c'è qualcuno dei miei seguaci che può aiutarlo, mi farebbe un piacere. Stiamo andando avanti. Spero di non aver superato il limite. Dai, che siamo quasi arrivati. Cosa? Perché ce l'avevo solo? Mi piacere l'avevo solo il time, il senso che io non ce l'avevo. Non ho capito niente. E per le lezioni che adesso sotto trovate il canale YouTube. Ah, ok. Dove riposto le live. Ah, che manca poco da arrivare al traghetto. Sì. È anche il mio canale Discord per chi vuole giocare insieme. E lì avviso quando vado in live. Oh, no, no, no. Eccolo. Ah, qua è il secondo il doppio di marchio. Dove sto andando questo? Ma dai. Ah? Sono una 60 da aspettarvi. Aspetta, aspetta. In che senso non puoi unirti? Puoi unirti tranquillamente. Ragazzi, c'è un ragazzo che, cioè, chi è che di voi ha tempo di spiegargli come scaricare il multiplayer? Eh, se mi dà tempo di finire questo viaggio, le posso dare una mano, tranquillamente. Perfetto. Allora, tanto ha detto che entra sul mio Discord e poi vi sentite voi. Eccolo, eccolo. Ciao. Ciao. Se appena finisco, finiamo il viaggio, ti posso dare una mano come vuoi. Va bene, va bene. Adesso, attento, ti arrivo a uno. Scusatemi il disturbo, anzitutto. Non volevo distrubarvi. Vai tranquillo. Eh, grazie a te, dai. Perché tutti giocano online, io sto ancora qui, ma come fanno a giocare? Ma il DLC ce l'hai? Ma devo comprare tipo un pacchetto o qualcosa? Perché come un pacchetto di normale? Ah, beh, allora puoi giocare nel server, ma non puoi giocare nella pro mod, perché non hai tutti i DLC di tutte le mappe, però puoi giocare online nella simulazione 1 e 2. Ah, ok. Quindi puoi sempre giocare online, ecco, diciamo. Dopo, magari più avanti, quando comprerai DLC, poi gioca anche in pro mod, perché la pro mod ovviamente è più grande la mappa, però devi vedere tutti i DLC per giocare in pro mod. E quando costa questa, sapete il prezzo circa? Il DLC è più o meno 20 euro, 10 euro all'uno, quindi devi fare un calco, perché sono tanti. Ma tu che mappa hai sbloccato? Italia, in America, forse. Ah, la base, è la base. E la base proprio, base di Eurotra. E secondo me sui 100 euro se le vuoi tutte le arrivi. Ah, sì, quello sì. Calco anche il gioco completo con tutti i DLC, skin e tutto, sono 150. Forse su Instant Gaming arrivi a poco meno. Non so se i prezzi sono aumentati o no, prova a dare un'occhiata. Perchè io ho comprato quella Eurotra, quello base proprio. Sì, solo che ci sono le macce, le DLC tipo, che ne so. Ditiamene una che ci sono in Italia. La Bretagna, l'Islanda, tipo, perché c'è anche un DLC. Poi posso andare in Romania, posso andare. Sì, sì, anche quello. Ah, ok, ok, allora posso salutare pure i miei cugini. Se compri il DLC sì, se compri. Ma tu ce l'hai la mappa della Romania? Buonissimo. Mi vale no. Eh, devi comprarla. Se vuoi andare di là. Arriva uno. Mi son bloccato, buonissimo. Ah, io sono fatto un uccidente proprio pericoloso. Sto andando pure con domano, cose strane. Porca troia, ho preso il palo. Che sono il periodo, lo puoi fare, ma non prima. Andrugli il parolaccio. Poi ci sono anche... Non puoi mettere le mod? Ora sono in offerta. I mod online sono solo dove vedi. Stai dicendo che ora sono in offerta le mappe. Ah, ok, ok. Comunque se avete messo i 100 euro ci arrivi. Può essere. Forse poco meno. Eh, ma questo momento... Ma diteli, diteli quello DLC così più. Svavuti. L'ultimo DLC è 25. L'ultimo DLC è 25. 25. Io lo provo a sconto 17 euro. Aspetta, facciamo una cosa. Problema, se il mio computer è reggio, quello è problema. Che il mio PC non è da gaming. Poverto, una domanda che vuoi fare. Vabbè, scusate. Non sono in qualche azienda? No, non sono in un'azienda. Però, purtroppo, ancora no. Allora, qua c'hai due aziende diverse. Può decidere quale è 3. Sì, ma prima lui deve scaricare il multi, si deve abituare e poi si vede. Eh, infatti, ma poi... Ma come ti gira? Vedi il lag, cose? Quella mappa base? Eh, da allora, io ho già detto... Purtroppo non ho un PC da gaming, ho i componenti proprio. E ho un PC portabile. Sì, è un brutto. Ma lo vedi laggare il gioco... Quanti FPS ti va? Eh, 30. Ah, io. Eh, 30, diciamo, da vedere come si vede online. Puoi fare anche 30 FPS, ma se ti vedono a laggare, è brutto è quello. L'importante è la connessione. La connessione com'è? Quanto vai, più o meno? Allora, la connessione purtroppo... Sto cambiando pure la zona, quindi sto facendo pure le cose. Che adesso fa come ne... Non faremo proprio. Fa così pena. Ho sempre i ping arti, purtroppo. Ok. Vabbè, dopo vediamo un po' tutto. Appena finiamo qua, ti do una mano, vediamo un po' tutto. Sì, sì, sì. Bene. Ma tanto, ormai, sono abituato a dare la mano con l'erotrack. Mamma mia. Vabbè, il muro, il muro. Il muro non c'è, però vabbè. Eh, il muro l'ho presi due volte stasera. Non so perché, quando ti ho preso i muri con questo camion. Eh, cosa devo dire? Io ho preso di più di due. Eh, cazzo. Cioè, io sto parlando con un ragazzo sul mio Discord, per sbaglio, stavo parlando, ero confuso e... ho sbagliato strada, è andato in via a conto senso. E mi hanno sospeso la patente. A quanto è il prezzo di tutte le direttze, 16 vederlo, King? Perché su l'erotrack le puoi togliere, quelle multe. Tanne quello base. Sì, sì, lo so. Ho torto, sapermi, mi arrivano. Allora, io sono anche indietro. Anch'io? Io sono indietro. Ora, King ha detto che va a dare il prezzo. Va bene. Vai, 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 prendi il traghetto, vai, prendi il traghetto, intanto... Ma avete il cammino modificato? Io so, sì, io so LockaMod, e quindi loro non lo vedono, ma loro vedono lo scagna base. Io so, invece, io so solamente il motore mondo. Come guida seria, guarda. Io guido in modo serio. Ah, io no, purtroppo. Frena! Noi dobbiamo viaggiare massimo... Dove dobbiamo andare? A Yerd, lì. Almeno, forse potevamo prendere il secondo, però il problema è che dobbiamo farci. Tutta la Bretagna riprende il traghetto e andare in Germania. Conviene prendere il primo. Ah, ma è apposta. Sì, perché sono già le quattro, ora che finiamo il viaggio. Ci sono 400 chilometri. Ancora 492, quindi arriviamo alle 4 e mezzo. Sì, è super veloce. Sì, arriviamo molto prima delle 4 e mezzo, quindi voglio. Ma su online, ho visto poco fa, se tu sghiandare il tuo amico non succede niente proprio. No, dentro traghetti, aziende... Packing mi dice che il tutto costa 56 euro. Wow. Perché se lei adesso mi viene addosso, prendo danno a rimarchio. Perché è come anche normale. Allora, passate. Allora, sono nelle aziende. Ah, ok. Sono nelle aziende e traghetti. Aspettami. Ma in questi momenti qui, in questi momenti qui non posso entrare in nessuna parte. Aziende, queste cose qui. Ma si parla solo in estate. Perché mo' purtroppo non sto tanto concentrando a giocare o a fare la mia strada. Perché avevo la scuola ancora. Sto ultimo anno di superiore, quindi. Capito. No, comunque, se vuoi prenderli, li prendi un po' per volta. Non so se ti conviene prenderli tutti insieme. Ma poi, la promozione, non so se ti conviene adesso prenderla. Perché anche, che già fai 30 fps, vai già in Islanda, o in Kirchner, o in Sicilia. Vabbè, ma forse in futuro, vabbè, forse in futuro, comprerò il PC, comprerò. Non è che gioco con questo. Vai già in Sicilia, da 30 fps che fai, arrivi a 10. Comunque grazie. Sono pesanti, come città. Alcune città sono pesanti. Cioè, te lo dico io, che ho la 490 Ti. Allora, ora, facciamo... E poi, ogni volta, è largo. Allora, facciamo solo delle cose. Allora, facciamo solo che, in questi momenti qua, gioco solo online. Non mettiamo in mod, queste cose, queste cose qui. Giochi con quello che hai? Sì. Ah. Oh, te lo spiega poi, Devis, se vuoi. Sì, sì. Se ti va, puoi mandare la richiesta, o parlavi in privato, come vuoi te. Ah, tranquillo, sì. Bella zina, pensi dopo. Per ora, ho abituati a giocare da solo. Sì, ma se non ha tanto tempo, non le conviene entrare nelle aziende, perché una azienda chiede chilometri. Cioè, quello. Se non ha tempo di fare chilometri, come fai? Va bene, che ringrazio mille per essere passato. Cioè, quello. Io, purtroppo, cioè, oggi ho detto, ho la scuola e ho l'esame, quindi non voglio rischiare quest'ultimo anno. Vai, Luca. Luca, su, passa tutti. Su, passa, vai. Noi stiamo andando piano. Apposta. Perfatti, su, parola. Vai, vai. Ma va quel l'eveco o lo devi spingere? Quel coso. Sì, ton con lo scania. Che tanto è il più bello del tuo, che vuoi? Ma, una domanda, con un i5 e la tredicima generazione, con un i360, ce la fa giocare anche mentre sta streaming? Sì, va. Sì, a voglia. Non lo puoi giocare magari a ultra, ma medio, alto, sì. Tranquillamente lo regi, sì, sì. Ero track, sì. Ma è strano, perché ero track pesa, veramente, cioè pesa nemmeno di 20 giga. Cioè, pesa meno, ma alcuni punti di mappa pesano tantissimo e si nota, perché se vai a Milano c'è un caldo di PPS. Cioè, proprio, quando entri ti accorgi. Ma, senso, cioè... Proprio, livello di grafica, livello di grafica, alcuni punti di mappa pesa. E si nota. In che senso è in Milano? Cioè, entra nei paesi proprio o, cioè, parliamo solo esterni, proprio? Tocchiamo sull'esterno. Sì, sì. Ah, tocchiamo sull'esterno. Ah, pensavo che andavo pure, proprio, interno, proprio, Milano. No, 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 no. Ciao, dico. No, no, no. Unica città che non c'ha, che puoi andare proprio in mezzo, forse. Ok, non mi ricordo se puoi vedere quello seo. Non mi ricordo. Ma mi hai andato così piano? Che va così piano? Io sto... 500 neri da voi. Via, ho messo il cruise. Non lo dà. 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 Ma che vuoi? Mi sono 96. Io sto 99. Ah, brucia il carico. Bravo, brucialo. Non si può cuore, non lo dà. Mi faccio sempre 99. Qua c'ho il carico automatico, il carico automatico. Dai, ti ho detto che non arrivavamo alle 5. E' un po' difficile, perché erano pochissimi i chilometri di strada. Eh, ma io sono pensato fossero di più. 19 minuti, non? Eh, ma perché abbiamo preso il traghetto più lungo, eh. Perché se lo prendevamo l'altro, per andare in Gravetania, erano molti di più i chilometri. Ma da dove vedi tu i minuti che mancano reali? Hai qualcosa? No, sì, c'ho il track. Ah, lui si usa cosa? Cos'è che vuoi? Overlay di track. Ah, ok, ho capito. Sì, che fa la gara e basta quel cosa. Almeno. Vabbè. E' inutile. E' inutile come cosa. Ma da quanto tempo è che ci giocai da questo gioco? Io da quando è uscito. Due mesi. Io penso... 5-6 anni, però con bassi e alti. Eh, io l'ho abbandonato per 2-3 anni. Poi l'ho ripreso da poco. Ho aperto Twitch, guardo il mio track, ho iniziato a guardare l'erotrack e mi ha avuto voglia di riscaricarlo e giocarlo. E basta, poi mi sono su viaggiare. Divertante, divertante. Raga, chi si vuole unire può unirsi tranquillamente. Ma? Questo che si spama! Siamo a 221, mi. Molto bene, follower. L'obiettivo del mese è 250. Ti è arrivato anche a te il messaggio in chat di uno che ha spammato il TikTok? Sì. Ma dove? Ah, no, lei no, mi sa perché è troppo lontano. Però a noi ci è arrivato un messaggio di uno che ha spammato il TikTok suo. Ah, ok. Quei notte qua. Che non ha senso. La vita non ha senso. Ecco. Venti, signor Natales, ma tu partici quel convoglio che facciano quello oggi e se domani? Boo? Io non particiò quel che l'amo. Ma penso di sì, comunque. Ma il nostro convoglio, dici? Sì, è quello di lunedì. Io domani non ci sono. Ma questi giorni qua? Quello di lunedì lo faccio sempre. Poi quello di martedì dipende. Martedì e mercoledì dipende. Quello di giovedì l'ho guardato Discord per un giorno, l'ho saltato. e mi hanno scritto in privato, mi hanno scritto... Ma non vieni al convoglio. Eh, erano già partiti. Quindi, l'ho fatto in tempo. Io devo rifare il camion. Accentare. Io devo ancora comprare il camion. Tutto contrario. Io ho tutti i camion e ci voglio il camion. E in realtà non è necessario di comprare il camion, volendo. Vabbè? Ti posso dare il profilo mio. Coppare il profilo mio. Dici a me? No, dico... Anche. Io posso prendere chiunque il mio profilo. Però il problema è che è pieno di soldi e tutto. Ah, no. Ciao. Ciao. Oh, ti ho scritto dopo qua. Grazie per il ride. Grazie mille per il ride. Non è già passata. Andate a seguirlo. Anche lui porta farming e altri giochi. Io da grande diventerò un grande moderatore. Ciao, monni. No. Ecco. Allora, bella voce. Sembra che sei molto più grande. Sembra che hai 3 e Power. Ah, no. Sembra molto più grande. Tutto bene, tutto bene. Allora, siamo qua che sto viaggiando. Manca meno 5 anni. Manca meno 5 anni. Abbiamo ancora qualche chilometro. Vabbè, addio italiano. Tu hai staccato adesso. Vabbè, manca solo 5 giorni. Manca solo 5 giorni e il mio compleanno. Ah. Il mio domenico prossimo. Ah, sempre Marti. Ah, sempre Marti. Io ciao. Io devo aspettare ancora tutto l'anno tra un po'. Che tu sei da oggi a gennaio o febbraio. No, domenbe. Sei stato un bel po' in live. No, domenbe. Ah, è un bel po' bello. Vabbè, comunque hai 4 anni meno di me. Quasi, sì. Vado, io dopo 3 ore vado fuori. Ah, fai 22, 21. 22 devo fare. Ah, vedi. Io sono la più vecchia. No. Io lo devo. Io lo devo fare. No. Ma cos'è? Ti abbiamo la scalla qua. Fuori? Eh, diè. Sei fuori dopo 10 minuti. Solo io sono un bambino tra poco. Eh, diè. No, no, io, essendo che anche lavoro molto spesso, lavoro al computer. Io ho avuto passione da piccolo ero tra il, però non potevo mai giocare sopra. Mi si stancano gli occhi, tanto. L'ho comprato Aerotrack l'anno scorso, non ho mai aperto. Ho scaricato due missi fa. E sto giocando un po' poche volte sopra. Sai che devo passare un ottimo il volume. Quanto vi manca? Mi fermo un attimo. Ti ferma? Perché sento le loro voci troppo alte. Non si usa il telefone quando stai in guida. Ok. Ma che vai. Due 40 dalle. Ma se non. Usa con i multicoloni e lenti con protezione. Vabbè, questi sono con la protezione. Però, vabbè, è così. La vita è così. Mi scappa un occhio sempre. O se il mio pensiero di comprare un volante, tutto quanto. Io gioco da volante. Io guardo. Pad. Non si può sentire da pad. Tu cosa? Io ci ho provato a Wii. Cioè, stavo proprio giocando. Poco fa ho giocato proprio io col pad. Ma è... Cioè, è complicato. Mi è mancando 146 kg. Quando ti fai una curva un po' pericolosa. Io ho fatto una curva... Limite era 50, però io andavo a 100. Ah, ecco. Allora è un problema di fondo. È bello. Da me piove sempre, da me, guarda. Quando gioco io. Perché devi passare la... E devi passare la percentuale della pioggia. Ah. Quindi, Luca, non ho capito tu quanti ne hai? 23. Vedo fuori 23. Ah, allora io sono la più vecchia. Sei quanti ne hai? Scusa, norma non si dice. Io ne ho 26. Vado verso i 27 quest'anno. Ah, 27. Ah, ma... Tengo ragione. Sembro più piccola, ma ne ho. Ne ho, sì. Stanno passando gli anni. Almeno quando ne avrò 40, ne dimostro 30, spero. Ecco. Ecco. Ho però detto una cosa positiva, no? Vabbè, io quando avevo 18 anni, uno mi fa... Quanti anni mi fa? Tu ne me ne mostri? 30. Cioè, noi mi avevamo dato 30 anni. A 18 anni. Pure io. Vabbè che adesso non ho trucco, non ho niente. No, con questa voce che tengo io, mi sembra che c'era uno dei 20, 30, 40 anni mi sembra. Questa voce che c'era io. Se mi trucco diciamo che 3 anni in più mi si danno. No, però 27, 28 tutti. Ah, ho capito, ho capito. Quanto? 165. 165. E' molto avanzato. A me è mancando 100. Vabbè, tu sei... 188. Ma qua è doppia corsia. Quante ne dimostro? Circa. Che bello vedere, una donna che guida. Mi sa, è la prima volta che ha vinto. Vabbè, vedi che... Vedi che la mia azienda... C'è pure una ragazza che guida. Non è strano. Cioè, io sto vedendo su Twitch. Ma diciamo che a me rilassa. Sono qua tranquilla. E' un gioco di grassande, si vede. Vabbè, dai, venti. A me ancora chiedono il documento. Se devo prendere qualcosa di alcolico. Ce ne sono mille. Ciao, Matti. Benvenuto e grazie per avermi seguito. Thank you for the following. Matti. Lo conosco, questo. È di... Pur io lo conosco. Tu c'eri al convoglio lunedì. Non mi ricordi di quale azienda. Ah, beh, lo conosco. Sì. Quello che ha soppassato dal convoglio di lunedì, ha soppassato tutti e lo stavano per bannare. Durante il convoglio. Il treno della zona d'Italia arriva in ritardo da mezz'ora. Perché durante i convogli non puoi superare nessuno. Comunque dicevo che sono andata a prendere delle birre, che io non bevo neanche le birre, però per la mia famiglia. C'è un amico mio che ha giocato, cioè sta giocando a Aerotrack online, che banna sempre, quindi in azione lo bannano loro. Vabbè, stavo dicendo, che sono andata, ho preso una confezione, quanti ce n'erano? 24. Io la birra proprio zero. Quasi alcol, qualche spritz, ma niente di più. Mi hanno chiesto il documento e parlo di pochi mesi fa. L'ultima sospensione è stato quasi un mese fa, mi pare. A febbraio sto parlando. Molto recente. Quindi, se me ne dai 20, molto bene. Gli altri quante me ne date? Come sto guardando? Sta parlando. Ah, come vi chiamate, scusate. Io mi presento, mi chiamo Sebastia. Io 18. Mi ha scritto il documento sul disco. Vabbè, Lucio. Eh, sì, Lucio, ma vabbè. Luca. Eh, sono confuso con autostreamer, scusate. Ok. C'è quel puffo che... Dai, 18 ancora maggiorenda. Quale ragazzo mi dice che le vengono fa. Il signor Davis. Ah, eh. Davis. Quando c'è... Nel... Sì, sei carissima... Sì, sei carissima ragazza. 2020, penso. O 21. Non mi ricordo. Comunque un bel po' di tempo fa. Non sapete come si chiama? Trash Annesio. Non do la mia identità per motivi personali. Ah, capito. Cioè, le persone più così conoscono, ma non a tutti. Comunque, chiamatemi Trash. Trash? Sì. Ah. Perché il mio cognome, nome, nome. Nome, cognome, nome, nome. Ah, eccolo. Vabbè. Vabbè, sono le iniziali dei... C'è le tre iniziali dei miei nomi. Ah. Comunque, faccio tutti i nomi possibili. Ti chiami Daniela? Tanto non dico nulla. Allora, io da oggi in poi chiamo a Daniela. Ciao, Daniela. No, ecco. Sei entrata tre anni fa. Sì, un bel po' di tempo sono entrata. Nulla, nulla. No, Daniela, perché... No, Daniela no. È come una prof in inglese. Ah, Daniela non ti piace. Eh, chiamavo... Aspetta. Eh, Giulia. Roberto. Giulio o Martina? La Martina? No, Martina è troppo bella. No, tanto... Non indovennerai mai. Sono in pochi che sanno il mio nome. Ah. Il tuo moderatore, sono sicuro. Sì. Molto. Probabilmente sì. Ok, allora che lo sono moderato. No, no, gli ho detto di non dire nulla. Poi il mio moderatore è la mia migliore amica, quindi... Ah, femminile. No, ma sei proprio... Vuoi proprio scavare, tu? Sì. Il mio amico... Il mio amico ha già scommato. Allora, perché si chiama Scammers? No, dai. Mi sei abbassato il gioco mentre guidavo. Occhio, occhio. Mi mancano 70 km. Dai, che sono arrivato. 15 km. Boh, mi sei abbassato il gioco mentre stavo guidando. No, comunque non dico la mia identità, perché poi la gente rompe sui miei profili personali. Eh, quasi sì. Eh, quindi preferisco non dirlo. C'è già così di suo... Mi arrivano un sacco di amicizie. E non ne ho voglia, sinceramente. Eh, ma... Diventi famosa, poi. Eh, più avanti se sarà. Che ne so. Eh, vedremo. Per il momento lasciamo così. Come si dice, deve essere sempre positiva. In che senso? Mi mancano poco. Boh? Vedete... Ok, vuoi dritto. Mi mancano 35 km a me. A me 42. 10. Vabbè, tu vai 200 all'ora. Tu, Matti, di che azienda fai parte? 5 da scatola di... Di smart? Sì, sì. Sì, sì. Zitto, zitto. Vabbè. Con lo spani. La messa è finita. Possiamo ritornare in parte. Hamburgo. Ma no, dai. Stavo scherzando, però. Quando becchi la galleria, stai su a sinistra. Ok. Io se voglio stare, sono a destra. Tenersi a sinistra. Ce la faremo? Suoniamo che noi un po'... Ah, no, ti uscivi ovunque lo stesso. Va bene. Anche se il navigatore decide di farci uscire a sinistra. Vabbè. Ragazzi, io purtroppo ora devo andare. Va bene. Grazie per essere passato in live. Ciao. A riglieci. Buona condannazione. Grazie mille. Grazie mille. Allora, andiamo avanti. Siamo quasi arrivati. Sì, non sa nemmeno Davide il mio nome. Ah, perché è facilmente sgammabile. Nel senso... Guardalo, devi si viva. È un nome... ...poco usato. Corri, 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 corri. Quindi basta cercare e entravi subito. Oh, io sto dicendo di correre così. Consiglio prima di te. E quindi dopo sei consigliato prima di me? Tu vuoi cos'è? Vuoi una... ...una claude? No. Ecco, beh. Poi più avanti non si sa. Tenersi a destra. Uscire a destra. Poi piano. Tanto dieci minuti e stacco anche la live. Così facciamo... ...due ore. Mi si è pure scaricata la seconda cuffia. Molto bene. Devo prendere l'altra. Tutto è possibile. Magari un giorno farai una partita a effetti. Ah, sì. Un giorno entrerò. Sì. Quando mi viene voglia di riattaccare la play. Batteria scarica. Bene, anche la batteria scarica del telefono. Mi sta venendo pure la fame. Dove devo andare? Di qua? Ok. Che silenzio. Tanto parcheggio di ciunti e stacco anch'io. Andiamo a che ho fatto. Posso che voglio dire? Cos'è? Devo far forzare. Ma dove devo andare? Ma... Ah, è il casello. Che fa? Per far più la barca. Deve far forzare. Ok. Ah, controllo di sicurezza, puro. Mamma. Ah, scusa, è entrato Luca? Non mi volete far dire a me? Oh, sì. Che sono speciale. Molto più pericoloso. Luca è pericoloso e devi stare attento. Devi stare attenti che è pericoloso quello essere. Allora... Non so chi c'è ancora in chat, oltre a Davide. Dove devo andare? Ok. Siamo arrivati a destinazione. Facciamo... Andiamo... Questo qua. Vediamo. Ah, ma qui? Ma è super easy. No, più avanti. Devi andare avanti. Più avanti. No, no. Mi fa parcheggiare qua. Ah. Ah, è proprio lì da te. Ma... L'hai detta? Da te proprio parcheggiare? Eh, io sono fortunata. E io non mi metto. Ah, ci via. Un po' di fortuna no, eh? Mai, eh? Dio. La vista. Mi metto dritto, vado all'indietro. Eh, sono a posto. Non trovo avanti di vita, sono sfigato, basta. E a volte la fortuna deve stare anche dalla mia parte. Vabbè, ho preso male le... Io, raga, vi lascio. Vi voglio dare un altro discorso. Va bene, grazie mille di essere stato in live. Ciao. Ciao, ciao. Grazie perché mi carico alla promod e poi... Ok. Ce la posso fare. Dove sta quel... Qualcosa... Guarda, guarda, guarda. Dove sta la devi vista? Stanno neanche a parcheggiare, guarda, guarda. Oh! Sto scherzando, sei? Sì, sì. È proprio... È proprio tremendo, eh? No, no, ma non so parcheggiare, questo è vero. No, non lo dico a... A cosa lo dico a... Ah, ok, ok. C'è parcheggiato, l'ho già scaricato. Io mi sono parcheggiato qua. Che vuoi da me? Ma... Dito che c'è parcheggio, mi sono parcheggiato qua. Ce la posso fare? Dico a come te che sei in mezzo alle scatole. Ma zitto. Ah, no, è che non so per cui parcheggiare. Non ci sto, manco in questo parcheggio, non ci sto. Sono a posto io. Ok, raga. Ci sentiamo, vi lascio. Ok, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, Luca. Niente, ho fatto 1563, vabbè, un bel po' di robe. E niente, io stacco la live a sto punto. Ok, ringrazio... Allora, io stacco la live, ti ringrazio per essere stato in live. Che è che parla? Davis, ringrazio tutti quelli che sono stati in live sulla chat vocale. Grazie a Davide, grazie a Matti, grazie a tutti gli altri, la Zappa, Storta per avermi fatto il ride, anche a Power Red per avermi fatto il ride. Grazie a Camillo, King e tutti gli altri per avermi seguito. E niente, alla prossima. Grazie a tutti.